Probabilmente quando lei è stata colpita dai proiettili stava per scendere dalla macchina del suo assassino, convinta di aver chiuso la discussione e la storia con lui. Al padre aveva confessato di volerlo incontrare per l'ultima volta per chiudere infatti quella storia, una storia ammalata. Resta ancora poco da spiegare nella tragedia di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, dove ieri mattina sono stati trovati i cadaveri di Mariana Caraus, mai per gli amici, Romena, 24 anni, e Karl Christian Neumeyer, 34 anni, tedesco. Tre i colpi di pistola che l'uomo ha esploso contro la ragazza, uno esploso contro se stesso, fatali. Lei non voleva tornare con lui in Germania, dove insieme qualche anno prima avevano anche convissuto. Lui non si voleva rassegnare. Disperati genitori della ragazza, i quali Karl non era mai piaciuto, i carabinieri ora devono controllare i tabulati dei cellulari dei due ragazzi per ricostruire gli spostamenti e i percorsi. Per gli inquirenti si tratta di chiudere un quadro investigativo che non avrà lunghi strascichi. Dai primi riscontri emerge che i due non avevano litigato. Non c'era stata aggressione, lei non aveva avuto bisogno di difendersi. Tutto è stato all'improvviso. È stata colpita dai proiettili al volto, alla spalla, al fianco. Forse non si è nemmeno accorta che lui aveva estratto la pistola. Dopo avere freddato mai, Karl ha mirato dritto al suo cuore. La prossima settimana le autopsie sui corpi dei due giovani. I genitori del 34enne devono arrivare in Italia per il riconoscimento formale. Solo dopo ci saranno i funerali.